Top 3 brawler peggiori in data 11 maggio 100% Edgar, poi Chester e Mr. P direi Il più scalso Edgar, sicuro E dopo Jackie e... aspetta, mi ho dimenticato E Chester Allora, sicuramente Mr. P Che in certi casi raramente si può mettere Poi Byron, che anche lui ha problemi di danni e vita E per ultimo Edgar Il più scalso Edgar 100% Edgar Che purtroppo ha troppo poco range e è difficile da usare